Iniziamo la mattinata così Già subito puntare Buongiorno Bentornati in un nuovo video Stamattina Lui è già partito Alla carica Abbiamo fatto colazione Io mi sono vestita Ho messo qualcosa di comodo Tra l'altro pantalone lungo Della tuta perché Le temperature si sono abbassate Quindi sto benissimo così Lui in realtà è ancora in pigiama Vabbè con il body perché sta dormendo ancora Con il body manica corta Calzettoni antiscivolo Perché così non rischi di scivolare Quando gattona E soprattutto quando si alza Perché adesso ovunque può Si alza Si mette in piedi Fa anche i gradini come avete potuto vedere Quindi calzettoni almeno Evita di scivolare Io adesso qui La stirapolvera Volevo dare una passata veloce al pavimento Dopo la colazione C'è sempre bisogno di passarla Perché le briciole a terra Non mancano mai E iniziamo così La nostra mattinata Ho finito di passare La stirapolvere E lui è passato Da i gradini Che ci sono di lì A questi Alla scala principale Che è da qualche settimana Ormai abbiamo chiuso Messo in sicurezza Con il cancellino Vero Tommy Perché È molto attratto Dai gradini So che è una cosa un po' Che è comune a tutti i bimbi E quindi abbiamo messo il cancellino L'abbiamo preso su Amazon Ma se vi può interessare Qui in infobox Vi lascio il link C'è bianco Nero E legno naturale E quello che abbiamo scelto Noi in particolare Ha la chiusura Automatica C'è anche quello Con la chiusura Manuale E forse anche un altro modello Che adesso mi sta seggendo E devo dire che ci stiamo trovando Molto bene Tra l'altro Sono quei cancellini Che si fissano a pressione E non bisogna quindi Furare la parete Quindi super consigliato E appunto come vedete Lui guardate È un continuo così Salire sul primo gradino Attaccarsi al cancellino E scendere Quindi devo restare costantemente Qui vicino a lui Perché Altrimenti cade E si fa male È un terremoto ormai Questo bimbo è un terremoto Come ogni mattina Prendo I miei integratori Questa ormai è diventata Una routine Che sto seguendo Da diverso tempo In particolare Con questi integratori Per i capelli Di Beers with Benefit Che assumo Da circa un anno e mezzo Questi sono stati Proprio i primi Che ho provato E che non ho mai più lasciato Innanzitutto Non sono i classici Integratori a capsule Che non tutti Magari riescono a prendere Ma sono in realtà Degli orsetti gommosi Che si prendono Come una caramella Come mangiare una caramella È invece un integratore Quindi si prende anche Molto volentieri E non vi dimenticate Proprio perché Vi dà un po' Quella dolcezza Quella sensazione Di mangiare una caramella Quindi Io le assumo Sempre super volentieri Di questi Prendo un orsetto Al giorno Sempre la mattina Dopo aver fatto colazione E questi Se avete i capelli Danneggiati Magari dopo Dopo l'estate Sono perfetti Per mantenere i capelli Sani e forti Ormai questi Non riesco più A smettere di prenderli Perché Sono buoni Sono efficaci E quindi Non vedo Perché Dovrei Interrompere L'assunzione Poi la mattina Prendo sempre Anche questi Con la vitamina D La vitamina del sole Anche questi Sono molto buoni E sanno di Di arancia Quindi Prendo anche questi Molto volentieri E questo integratore Serve per il sistema immunitario Per le ossa E per i muscoli Qui in descrizione Vi lascio il link Utilizzando il codice Giada Youtube 20 Potete avere Il 20% di sconto Su tutti gli integratori Potete provare Un integratore soltanto Crearvi il vostro set Personalizzato E lo sconto È accumulabile Con gli sconti Che trovate già presenti Sul sito Comunque qui In infobox Vi lascio tutto Cliccando direttamente Al link Lo sconto Si applica automaticamente Tra l'altro Vi segnalo Che spesso mi chiedete Lo sconto Non ha scadenza Quindi potete Utilizzarlo quando volete Anche se guardate Questo video magari A distanza di tempo Dal caricamento Sappiate che il codice È sempre attivo E ora Pappa per Tommy Prima mangiò Sempre lui Vero E gli ho fatto La pasta La fattoria Con il sughetto Primo sughetto Al pomodoro E devo dire che Gli piace molto Come gli piace molto Anche il panino Vero signorino Mangiamo? Mangiamo un po' La pappa Dai Che buona Tieni Bravo La tattica Per farlo addormentare Post Pappa Quando non Vuole sapere Di dormire In casa Metterlo Nel passeggino Fare giusto Un giretto Qui Al parco Che abbiamo Davanti a casa E lui Tipo in dieci minuti Si addormenta Così adesso Adormirà un pochettino E noi Possiamo Mangiare Sempre posso Preparare il pranzo Chi c'è qua Ciao Gioia Niente Alla fine Siamo riusciti a mangiare Ma lui È già sveglio Si è svegliato Tipo dopo Mezz'oretta Scarsa Ultimamente Dorme Ragazzi Davvero poco Di notte Fortunatamente Dorme Mare fa dei piccoli Risvegli Però comunque Può essere addormenta Ultimamente Si sveglia Tipo verso le 6 Pino a 6 e mezza È bello Pimpante Adesso dovesse alzarmi Portarlo qua in casa A far dargli la colazione Sicuramente Mangerebbe E si sveglierebbe bene Invece Noi siamo ancora un po' Stanchi Quindi alla fine Verso 6 e mezza Dico A farlo riaddormentare Poi mi tira anche fino 8 e mezza alle 9 Quindi di notte dai Non mi lamento Ma di giorno Non dorme più niente Dorme davvero poco Mi dai un bacio Mi dai un bacio Tommaso vieni Qui Non pensi Sia ora Di fare la nanna Non pensi Guardatelo Come si arrampica Ed è salito Sul divano Solo E adesso Cadiamo giù Fai un bacio grande Bacione Bacione grande Non ciao 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 Anche un bacio alla mamma Dei bacio Baccio Baccio Gros Un bacio Grazie Alle 3 e mezza Finalmente Ce l'ho fatta Si è addormentato Io ho ancora Qua la cucina Da sistemare Devo finire di fare La lavastoviglia Ho ancora Nel davandino Un po' di cose Però Prima ci teniamo Farlo dormire A volte si addormenta Poco A volte invece Ci metto di più Tipo oggi Quasi un'oretta Considerando che Stamattina Ha dormito Pochissimo Cioè Mezz'oretta Scarsa Quindi Ci tenevo Proprio a farlo dormire Ora E quindi Sono andata in camera Ho chiuso tutto Così con il buio Si è rilassato Un po' di coccole Un po' di dai 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 E alla fine Ce l'ho fatta Ora dorme Sereno E pacifico Quindi spero che Almeno un'oretta Mi dorma Così Sistemo Sistemo Qui la cucina È arrivato anche un pacco Le so Lo apro così Vedo di che cosa si tratta E Poi devo scendere Perché Devo anche Stendere L'avatrice Che ha finito Poco fa Partiamo Della cucina Tra l'altro Mi stavo Addorment O meglio Mi sono addormentata Anch'io Nel far addormentare Lui Ero al buio Sul letto Sono partita Anch'io penso Di essere partita Tipo per 5 minuti Perché poi Mi sono svegliata E Mi sono alzata Subito Perché se poi resto Lì con lui E' finita Dormo Quindi ho detto Alzati Vado a fare Che c'è un po' di roba Da fare Però Mi è rimasta Volentieri A letto Cucina Riordinata Lava stoviglie Fatta Sistemato tutto Lui sta ancora dormendo Quindi ne approfitto Per farvi vedere Il divano Perché non ci sono ancora Riuscita oggi Come sapete Come avevo già accennato Anche su Instagram Abbiamo Preso il divano Per questa zona Perché abbiamo sentito La necessità Di avere il divano qui E abbiamo portato il tavolo Sul sopparco Ve l'ho già fatto vedere In uno degli ultimi video Tra l'altro Ci stiamo trovando Ci stiamo già abituati A mangiare qui Sull'isola Abbiamo fatto Una bella cucina grande Con una bella isola Al centro Bella grande Spaziosa Con gli sgabelli Per poter mangiare Ma Quando avevamo il tavolo qui Ci veniva più Ci veniva di più mangiare Sul tavolo Quindi mangiavamo a tavola Da quando il tavolo qui non c'è Per forza di cose O andiamo su Oppure mangiamo sull'isola E abbiamo preso l'abitudine Alla fine Era proprio questione di abitudine Infatti Sull'isola mangiamo comodamente Perché Lo spazio ce n'è Abbiamo tolto anche uno sgabello Per fare spazio Al seggilone di Tommy Che adesso resta sotto Insieme ai nostri sgabelli Vi faccio vedere Ok Ecco qua Praticamente Un intanto Lo abbiamo tolto E qui sotto Abbiamo messo Il suo seggilone Che tra l'altro Ci sta perfettamente L'unica cosa Che a differenza Degli sgabelli Questo resta più Più basso Quindi finché mangia Sul suo seggilone direttamente Ci sta Quando iniziare a mangiare A tavola con noi Allora effettivamente È basso In realtà Noi comunque Stiamo valutando L'idea di Attaccare un tavolo Qui Perché comunque Qua lo spazio C'è Per poter raggiungere Un tavolo Non troppo grande Ma Che vada Diciamo a proseguire Con l'isola Per essere Comodi Con lui Quando Mangiamo Anche se Al momento Con quella comodità Qui Ugualmente L'abbiamo Però C'è soltanto Un pochettino Basso Il Seggilone Abbiamo preso Questo divano Che è Bello grande È un angolare In realtà È un divano Che si può Personalizzare Noi l'abbiamo Predisposto Così Per lo spazio Che abbiamo Noi a disposizione E abbiamo messo Allora Il tappeto giochi Di Tommy Con cui Mi trovo bene E devo dire Che anche come misura Con il divano Tutto sommato Ci sta Vi faccio vedere Anche Da quest'altra Angolazione Come è il divano Allora abbiamo preso Un Angolare Una poltrona Da una parte O comunque Una seduta singola Loro la definiscono Centrale Questo è il divano Di poltrione Soffa Modello Incanto Da artista Poi abbiamo Un'altra poltrona Centrale E il puff Resta abbastanza Molto vicino Al mobile Vediamo cosa fare Adesso Con il mobile Il puff Si può staccare Volendolo Possiamo mettere Qua E avere Praticamente Un divano Quadrato Se vogliamo Stendere le gambe La sera In realtà Non l'abbiamo Mai fatto Però si può Fare Perché Tutti Questi pezzi Sono Quattro pezzi Possono Unire tra loro Come si vuole Quindi creare Un divano Personalizzato In base Alle esigenze E ai propri spazi L'abbiamo scelto In microfibra Che è un tessuto top Devo dire Resta un po' L'effetto mare Di divano disordinato Vedete Però questa cosa Mi piace Se si sporca È già successo Con le cagnoline Con Tommy Con un panno Leggermente umido Sfrego un attimo E la macchia Viene subito via Ovviamente È un divano Che comunque Si può sfoderare E lavare In lavatrice Però Se c'è quella macchia Immediata La poi Si può rimuovere Facilmente Senza dover Sfoderare tutto Cosa Che non basta mai Con il divano Erano inclusi Anche Due cuscini Per ogni seduta Uno è dello stesso colore Del divano Che è un beige Chiaro chiaro E uno che invece È più un sabbia Caldo È un divano Anche con la La seduta Bella profonda Perché è circa 108 cm Se non ricordo male Quindi Ci è seduto Ci si sta davvero Molto comodi Anche lo schienale Resta basso In realtà Il divano in generale È abbastanza basso Questa è una cosa Che deve piacere Perché magari Non a tutti piace Il divano basso Ma da quando L'abbiamo messo Ormai Una settimana abbondante Che ce l'abbiamo Ho proprio notato Che Tommy Qui ci sta volentieri Sul suo tappeto Nei giochi Con accanto il divano Si alza in continuazione Ed è proprio più spronato A Non dico fare i primi passi Perché presto però Ha il suo appoggio Per potersi alzare Sperimentare E farlo in più sicurezza Rispetto A farlo con Il tavolo O con I gradini Quindi contenta Della scelta Che abbiamo fatto Di aver messo qui il divano Per in questo periodo Diciamo della nostra vita Con un bimbo così piccolo Qui era giusto In questo momento Avere il divano E così abbiamo fatto Adesso io resto Un attimo qui Rilassata sul divano In solitaria Visto che Tommy Sta ancora dormendo E Boh magari Guardo qualcosina Su Netflix Oppure Semplicemente Me lasciando Un attimo Cenettina Stasera pizza Io col prosciutto E Le patate al forno E sto dando qualche Pezzettino E Tommy Anche se lui La sua papà L'ha già mangiata Però il prosciutto Ti piace Vero? Bravissimo Buon appetito La nostra giornata Si conclude così Sul divano Dopo una buona pizza E dopo aver messo A letto Tommy Ci rilassiamo Un paio d'ore Guardando un film Ovviamente in compagnia Di Gioia e Mocha Spero che il video Vi sia piaciuto E vi sia stato di compagnia Vi mando un bacio E ci vediamo presto Nel prossimo video Ciao